Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Una notizia che ho letto l'altro ieri mi ha fatto amaramente sorridere e pensare. In Olanda centinaia di persone si sono messe in fila davanti ai coffee shop per acquistare cannabis quando il governo, nell'ambito delle misure per arginare il coronavirus, ha deciso improvvisamente di chiudere questi esercizi commerciali. La gente si è precipitata in strada e alcune caffetterie sono rimaste aperte oltre l'orario stabilito per consentire lo smaltimento delle file. In Olanda la marijuana e i suoi derivati sono venduti in negozi specifici dove è possibile acquistare fino a 5 grammi di sostanza a persona scegliendo tra diverse varietà di cannabis. Ma perché dico che la notizia mi ha fatto amaramente sorridere e pensare? Perché mi sembra che le code davanti agli spacci di droga, perché di questo in effetti si tratta, siano l'immagine perfetta di questa nostra società postmoderna che ama tanto considerarsi e mostrarsi libera, emancipata, sicura di sé ma alla prima difficoltà si comporta non diversamente dal bambino piccolo al quale è stato sottratto il ciuccio. E il buffo è che noi cristiani che nel momento del bisogno alziamo gli occhi al cielo e ci rivolgiamo a Dio in questa società libera, emancipata e sicura di sé veniamo magari guardati con compatimento come se fossimo noi i piccoli bisognosi di facile consolazione. Fin troppo noto è l'afforisma di Chesterton chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente perché comincia a credere a tutto. Meno noto è questo passo di Sant'Agostino sono tempi cattivi, dicono gli uomini vivano bene ed i tempi saranno buoni noi siamo i tempi. L'uomo postmoderno, libero, emancipato e sicuro di sé pensa che l'uomo di fede, affidandosi a Dio fugga da sé stesso. Non si accorge che chi nega Dio si fa schiavo di sé stesso. Ricordo un bellissimo discorso tenuto da Benedetto XVI nel febbraio del 2009 quando visitò il pontificio seminario romano Maggiore. Interrogandosi su che cosa è veramente la libertà il Papa introdusse una distinzione decisiva quella che oggi definiamo libertà ovvero il poter fare quel che si vuole perché non si dipende da nessuno non è libertà ma libertinismo e l'assolutizzazione della libertà lungi dall'essere conquista è degradazione. Il libertinismo non è libertà è piuttosto fallimento della libertà. In quel discorso al seminario romano Benedetto XVI insegnò che ridursi alla carne può dare l'illusione di elevarsi al rango di divinità ma in realtà introduce nella menzogna. Anche senza ricorrere all'alta teologia la semplice esperienza ci dice che l'uomo non è un assoluto e di conseguenza non può esserlo neppure la nostra libertà. La nostra verità disse Papa Ratzinger è che innanzitutto siamo creature creature di Dio e viviamo nella relazione con il creatore. Quello che chiamiamo processo di emancipazione ci ha allontanati progressivamente da Dio ma tutto ciò non ci ha resi più liberi ci ha resi più schiavi di noi stessi delle nostre pulsioni dei nostri vizi Vedere Dio orientarsi a Dio conoscere Dio conoscere la volontà di Dio inserirsi nella volontà cioè nell'amore di Dio non è una fuga da se stessi al contrario è entrare sempre più nello spazio della verità. In quell'altro formidabile testo che è L'Europa nella crisi delle culture conferenza tenuta a Subiaco al monastero di Santa Scolastica il primo aprile 2005 pochi giorni prima della sua elezione a Papa l'allora cardinale Josef Ratzinger disse che la vera contrapposizione che caratterizza il mondo di oggi non è come comunemente si dice quella tra diverse culture religiose ma quella tra la radicale emancipazione dell'uomo da Dio e le grandi culture religiose che riconoscono invece il legame fra l'uomo e Dio. La contrapposizione è tra chi ritiene di poter fare a meno di Dio fino a rivendicare tale convinzione come garanzia della vera libertà e chi invece riconoscendo il legame con Dio afferma che solo in tale relazione c'è la garanzia di una libertà autentica al riparo dal rischio che la libertà diventi nemica dell'uomo. Espressione di una coscienza che vuole vedere Dio cancellato definitivamente dalla vita dell'uomo o al più accantonato nella sola sfera individuale e privata è il relativismo il quale in nome dell'antidogmatismo si trasforma in realtà nel dogmatismo più rigido perché non dà diritto di parola a chi rivendica l'esistenza di una verità assoluta conoscibile. La verità concluse il cardinale Ratzinger è che se vogliamo che la dignità umana non sia calpestata non dobbiamo perdere di vista Dio. La conferenza di Subiaco è famosa anche perché in quell'occasione l'allora prefetto della congregazione per la dottrina della fede fece una proposta diretta ed esplicita ai nostri amici che non credono. Vivere non et si Deus non daretur come se Dio non ci fosse secondo la sioma illuministico ma veluti si Deus daretur come se Dio ci fosse. In questi giorni in cui molti di noi sono chiusi in casa ci farà bene tornare a certi grandi contributi che Iosef Ratzinger Benedetto XVI ha offerto non solo ai credenti ma all'intera nostra cultura. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org